a tutti gli italiani è il vostro re che vi parla è tempo di tornare ad arredare le vostre case con l'eleganza di cui avete bisogno oggi più che mai liquidazione reale fino all 80 per cento di sconto sui grandi marchi vi ordino di affrettarvi perché gli sconti reali sono tornati affari irripetibili da dotolo mobili a passo di mirabella aperti la domenica